L'importanza di un corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica sono ormai ben noti, ma non sempre è semplice trovare del tempo o vincere la pigrizia per fare sport. Ci dà una mano un farmaco speciale, Pillole di Movimento. Ne parliamo con Paola Paltretti, vicepresidente WISP di Bologna e con Lodo Guenzi, cantante dello Stato Sociale. Buongiorno e benvenuti. Grazie, ciao. Cominciamo da lei, Paola. Che cos'è Pillole di Movimento? A chi si rivolge? Come funziona? Pillole di Movimento è una campagna di sensibilizzazione al movimento per far muovere i sedentari e quindi è una chiamata al movimento per tutte le persone che non stanno facendo attività fisica. Lodo, come si mantiene in forma? Lodo Guenzi. Facendo il testimonial che è uno sport completo. Io sono abbastanza un disastro, sono un testimonial e un garante per questa iniziativa perché sono una delle persone più pigre d'Italia. Quindi controllerò con la mia presenza che le persone ritrovino anche una buona ragione per muoversi, per abbandonare il divano, per scoprire uscendo di casa che comunque è esattamente quello che faccio io nella vita, dare un motivo agli altri per uscire di casa, che si può vivere meglio. Però noi ci ricordiamo una bella esibizione a Sanremo con una signora che ballava, una vita in vacanza, una vecchia che balla. Sì, ma io faccio ballare gli altri, uguale con lo sport. Ecco, ci saranno 22.000 confezioni di pillole di movimento che permetteranno di usufruire di un mese in palestra o in piscina. Dove si possono trovare queste pillole? Le pillole da oggi fino al 31 marzo verranno distribuite in più di 60 farmacie del gruppo Lloyds e del gruppo Federpharma. Si trovano a Bologna e in provincia perché oltre a Bologna sono coinvolti altri 14 comuni. Quindi il progetto, partecipare al progetto è molto semplice, basta andare in farmacia, prendere la scatola, sulla scatola ci sono tutte le indicazioni per contattare le palestre e le piscine e venire a conoscenza degli orari e delle attività messe a disposizione. Sono tutte attività sportive adatte alle persone sedentarie, non c'è niente di agonistico. Appunto, dicevamo, seconda posizione a Sanremo, una vita in vacanza, una vecchia che balla, e qua non si balla. E niente, non si balla, non si balla, però ci si muove, si va in farmacia a prendere queste cose, lo slogan era correte in farmacia a prendere queste cose. Io che sono un po' per lavorare con lentezza, io invito ad arrivare in farmacia con un passo felpato e sua dente e poi magari cominciare a correre piano piano dopo, senza agonismo ma con voglia di svegliarsi un po'. Decima edizione di Pillole di Movimento, com'è andata l'anno scorso? L'anno scorso circa 4.000 persone hanno partecipato, quindi noi ci aspettiamo anche quest'anno una grande adesione, soprattutto diciamo a tutte le persone che di opportunità ce ne sono davvero tante e si può anche ballare, perché ci sono anche tanti corsi di ballo. E tu Lodo, piscina, palestra? Io l'arbitro del tennis, l'allenatore, il motivatore, il motivatore, come la Svezia di tanti anni fa, uno tecnico e l'altro motivatore, io faccio il motivatore. Quindi vi aspettate una grande adesione, quante sono le palestre che aderiscono? Le polisportive che aderiscono sono 15, ma ogni polisportiva ha più palestre, quindi stiamo parlando di 11 piscine, circa 40 palestre, c'è davvero tanta scelta, ce ne è per tutti i gusti. Lodo, la prossima canzone? Chi è che balla nella prossima canzone? La prossima canzone si chiamerà Il Movimento non si arresta. Bene, ottimo, perfetto. Grazie ai nostri ospiti. Passiamo allo sport con il calcio.